Allora Linda, this is the system with all of the lights, including 12 inch car holes, 4 inch car holes, and I'm going to show you the way it works, so praticamente, queste sono tutte le luci, ora ti faccio vedere come la vuole, ok? Sei pronta? Sorpresa sorpresa! Faccio attenzione! Faccio attenzione! Faccio attenzione! Faccio attenzione! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.